Buongiorno, siamo arrivati quindi all'appuntamento con la gara di autostoriche, una gara che durerà 60 minuti con uno schieramento molto diversificato, sono tanti i gruppi che si confrontano l'uno contro l'altro, è chiaro che non esiste di fatto, lo confermerà anche Antonio Carucci, una classifica assoluta ma una classifica per gruppi e poi per classi. Ci sono vetture molto importanti, Antonio quindi sarà una corsa più che per la propria competitività interessante per vedere in azione delle vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo, non solo italiano, soprattutto internazionale, nell'arco di tantissimi anni. Sono vetture che partono dalla fine degli anni 60 per arrivare a lambire gli inizi degli anni 80 in pole position. Infatti abbiamo proprio questa bellissima Porsche, la 935 K3, versione Erwin Kramer, guidata all'epoca da Axel Planck e non solo, anche dal grandissimo Rolf Stommelen che qui è portata in gara da Ronconi e da Giovanni Gulinelli che è sicuramente uno dei grandi piloti presenti qui ai 60 minuti di Imola. Poi abbiamo Riccardo Messa che ha una Alpine Renault, è una vettura sovralimentata, sei cilindri, poi la Tascan di Giovannini Etruglia, la Cadet GSI, vedete tanti anni mischiati tra di loro di Gerardi e Sardelliti, denti e denti con la prima RS Porsche, poi Tessaro con la bellissima Dallara X19, poi Girole Landini con una Evo Mercedes 190, versione quasi DTM, Poi Ambroso e Iarac con un 323i BMW, Raimondi e Raimondi che sono due specialisti con la loro Jaguar Type, Arnaldi con un Alfa Romeo 2000, credo che sia una GTV, poi Olmi e Garzi con un'altra Tascan della TVR, Quaresima che è stato protagonista, non so se ve lo ricordate l'anno scorso, di una bellissima gara proprio a Percusa al volante della sua immarcescibile Maserati Biturbo ed è un pilota laziale che dà veramente spettacolo, Poi Ballestri con la BMW 3000, sono tante, Filippo Marazzi e Matteo Marazzi con un'altra Porsche, Bravetti, Nicola Bravetti che è un grandissimo esperto proprio della casa di Weissart ed è uno specialista soprattutto della 24 ore del Nürburgring che corre con un'inedita per quanto riguarda le corse automobilistiche Porsche 944 Turbo, poi Blu Max e la vecchia con un Alfa Romeo GT AM, Benedetti e Wührer con un'altra Porsche, Serio e Guerra con una Giulia GTA, da non confondere con la GTA AM, Crocchini con un Alfa Romeo 33, Guerra e Miskis con la Giulia Sprint GT, poi Tosolini con una Carrera, Gianni Giudici che ha una bellissima Ford Sierra Cosvo, ex Tamauto ed ex Vettura Darelli e poi via via tutti gli altri con Morselli Bassi con la loro piccolina Peugeot, Edovarini e Santi De Filippis con l'Alfetta, Cecchini e Pellegrino, Giacon e Luca, ovvero Domiziano Giacon, il papà di Jonathan e di Steven e Luca Rangoni che è il preparatore, che è grandissimo pilota, ex campione italiano di Formula 3, ex pluricampione delle categorie Renault e via via tutti gli altri compresi Bossoli, Miglio, Grassellini, Tobi che ritorna alle corse, Carlo Brambilla, uno dei più grandi protagonisti del mondo del turismo, c'è anche Chiara Monte Bordonaro che corre con l'Alpine Renault A110, naturalmente Antonio partenza lanciata, non ci sarà storia perché la Porsche 935 ha sicuramente un maggiore spunto rispetto all'Alpine che la fronteggia, è curiosa la storia di questa vettura, l'allineamento non è proprio perfetto, è storico però, è sicuramente storico Guido. Perché c'è la Dallara X19 che sicuramente è una vettura molto competitiva, che è molto all'esterno rispetto agli altri, partenza con appunto la Porsche 935 che va a prendere il comando di questa gara, poi avremo tempo di parlare delle caratteristiche di questa vettura, che Ronconi è sì perché è una macchina particolarmente potente, va a prendere il comando quindi l'Alpine in seguita dall'Opel, la Porsche perde terreno, adesso è attaccata anche dall'Ara X19, ma ricordiamo Ronconi è un gentleman e guidare questa vettura è particolarmente difficile. Ma poi Guido, questa gara è anche il piacere di dare queste vetture, c'è la rincorsa al miglior tempo, è un'occasione anche per poter godere lo spettacolo degli AC Racing Weekend e di far godere anche a chi è presente nel paddock, anche ai ragazzini della Formula 4 e della Formula Regional che ieri ammiravano nel corso delle qualifiche queste vetture, chiedendo tra l'altro anche a te informazioni, soprattutto nel mondo delle Porsche. Questa è un Abarth 1000, attenzione che le Abarth praticamente quelle, è una macchina introvabile, sono quasi tutte finite in Giappone, hanno animato la storia del campionato europeo turismo, anche la storia dei campionati italiani, gruppo 2 turismo speciale, i campionati triveneto che facevano spesso e volentieri tappa a Varano de Melegare che è un po' un autodromo che Antonio Caruccio conosce più che bene, avendoci lavorato per tantissimi anni. Nonostante la mia presenza qui tuttora. Io ho iniziato la mia carriera, tra virgolette, se si può chiamare così, proprio dall'autobus di Varano, dove ogni settimana di fatto vedevo queste vetture, c'erano le gare del campionato italiani, le gare del campionato triveneto, automobilismo ancien regime, come lo chiamo io, ma un automobilismo molto vivace, che rispetto a questo dava anche l'opportunità a persone non dotate di eccessivi mezzi economici, di avvicinarsi al mondo delle competizioni perché bastava acquistare una vettura con qualche sacrificio, prepararsela e c'erano sempre le categorie adatte, c'erano il gruppo 1 che era il turismo di serie, il gruppo 3 che era il turismo di serie, poi si passava al gruppo 2, al gruppo 4, mentre guardate com'è interessante questa battaglia, c'è già la prima defiance per questa BMW, è una BMW gruppo 5, ovvero una vettura silhouette che è costretta a fermarsi, bandiera bianca, posizione abbastanza pericolosa perché si trova quasi in traiettoria, adesso va a prendere... alle barriere è stato bravo il direttore di corsa che aveva già istruito, naturalmente non possiamo pretendere per queste vetture la stessa affidabilità delle vetture moderne, intanto al comando ci sono messe Sardelliti, Sardelliti con la propria Opel GSI, c'è la CFT Car naturalmente, si trova a combattere con una vettura molto più potente, però siamo due generazioni, una diversa dall'altra, da una parte abbiamo un Alpine Renault 6 cilindri turbo degli anni 80, dall'altra una vettura che ha corso fino a qualche decina d'anni fa, sia nel mondo della velocità sia nel mondo dei rally, al terzo posto la TVR che è una vettura particolarmente potente, molto scorbutica, molto delicata. La favoritissima, la Porsche, viene trattata direi con i guanti e c'è attenzione anche un'altra sosta in pista eccellente per quella che è una delle vetture più interessanti presenti, la Dallara X19. Allora la Dallara, vogliamo raccontare la storia di questa bellissima vettura che è ancora attualissima. La Fiat X19 era una vettura sportiva nata su base Fiat 128 e nel 1975 l'ingegnere Dallara e Bertone presentarono proprio al Salone di Parigi di quell'anno questa versione che era una versione adatta per, ecco intanto qui è stato bravo il pilota a controllare le bizze di questa BMW Gruppo 5 Silhouette a costruire una vettura omologabile in Gruppo 5 per il neonato campionato mondiale Marche e per il neonato campionato italiano Gruppo 5 che si sarebbe disputato da lì ad allora. Motore 128 originariamente, 1300 centimetri cubici, circa in partenza 180 cavalli che però sfioravano i 200 cavalli nella versione definitiva, iniezione meccanica Kugel Fischer, grandi prestazioni da parte sia della Dallara 1300 sia della Dallara 1600. Non so se ti ricordi questa bellissima vettura ha partecipato anche a gare del mondiale Marche e permise all'ingegnere Dallara che era molto amico dell'allora capo tecnico dell'Abarth e della Chiesa di entrare di fatto nel mondo della Lancia perché dopo questa esperienza Dallara ha preso in mano la Beta Monte Carlo, nacque la Beta Monte Carlo Turbo ufficiale della Lancia che prese parte e vinse il mondiale Endurance negli anni successivi. Poi arrivò la più bella macchina mai realizzata per quello che allora era il WEC, ovvero la Lancia LC1 e poi la Lancia LC2. Dallara in precedenza aveva già collaborato con il gruppo Fiat perché dopo l'esperienza con la De Tommaso aveva fondato la Dallara Automobili proprio nel campo sportivo vicino accanto all'autodromo e aveva già messo le mani sulla Lancia Stratos da rally e da velocità, anzi se la Lancia Stratos è diventata una vettura da corsa, la versione di serie non teneva la strada, non era una gran macchina, era un X19 praticamente più grande col motore Vino Ferrari, lo si deve proprio all'ingegnere di Varano de Melecani. Bellissima macchina dall'Ara X19 era il mio sogno, ce n'era una che vinceva sempre le gare all'epoca in Italia che era guidata da un pilota di Mantova che si chiamava Guglielmo Mannini e aveva la pubblicità dell'olio Fiat, poi c'è salito Robi Filanino, Arcadio Pensali, insomma tutti i piloti Antonio che hanno fatto la storia di quella parte di automobilismo glorioso degli anni 70, anni 80 che mi ha consentito poi di iniziare la mia professione. Sono affascinato, da questa tua narrazione spero che da casa possano godere tanto quanto ho potuto godere io, anzi io ti ho visto anche nell'enfasi, nel gesticolare il tuo entusiasmo ripercorrendo la storia di queste vetture di cui io ovviamente purtroppo per una questione generazionale di ignoranza personale non conoscevo nulla ma mi stai dando una cultura e una base e poi appunto cioè sapere come sei arrivato tu al mondo delle corse prima da pilota e poi in questa veste. No, no, prima ancora da amico di un commissario di percorso che tra altre cose possiamo salutare, si chiamava Giovanni Bulloni Serra, insieme andavamo alla curva X di Varano, lui faceva il commissario, io stavo accanto a lui e lì noi abbiamo iniziato questa grande passione girando poi per la Formula 1 e tutte le categorie possibili e immaginabili. Abbiamo intravisto ancora la bellissima Porsche, la 935 K3, credo che ne parleremo in maniera molto approfondita quando salirà Gulinelli a pilotarla perché Gulinelli è in assoluto con quella vettura il pilota più veloce, è sempre il dominatore, il suo colchipiede naturalmente agisce con i guanti bianchi, io non so con che pressione di sovralimentazione sia partita quella vettura ma ti dico che è una bestia, è davvero una bestia. Interessati anche gli spettatori che provengono dal Far East, cioè coloro che accompagnano i tanti piloti orientali che sono presenti qui e che gareggiano sia in Formula 4, qui invece siamo in piena Europa è la mamma di un pilota di Formula 4, no di Formula 4, sì caucasico perché l'origine è comunque quella. Bella anche questa Mercedes 190, versione 2.3, 2.5, praticamente introvabile e vedete le tante Alfa Romeo che sono presenti di fatto in tutte le loro declinazioni perché abbiamo la GTA 1.6, la GTA Junior, la GTA M e addirittura abbiamo anche una GTV gruppo 1 o gruppo 1.5, non sono riuscito a capire perché un tempo c'era anche un gruppo 1.5 che disputò in quella categoria anche la 24 ore di Spa e l'Alfa vinse la Coppa del Belgio, l'Alfa era specializzata a vincere a Spa-Francorchamps quella Coppa all'interno della 24 ore di Spa che premiava la squadra che portava al traguardo non solo il maggior numero di vetture ma il maggior numero di vetture tra i primi. Un ritorno al futuro Guido, magari nei prossimi anni, visto che il marchio sembra essere orientato al ritorno al mondo dell'Endurance in discrezione emersa proprio lo scorso fine settimana in occasione della gara dell'UEK a Portimao e quindi insomma un cambio all'interno del gruppo con l'uscita parrepe di Peugeot una volta che Alfa abbandonerà la Formula 1 e quindi chissà che non ci sia... Anche perché Peugeot, nonostante a Portimao sia andata relativamente bene, non sembra avere azzeccato totalmente la vettura, bisognerà vederla alle mappe. No, Monza e Le Mans sono probabilmente le piste su un progetto come quello di Peugeot, grazie all'effetto suolo e la mancanza di quest'ala posteriore, ricordando un po' il Formula 3 monoplano che correva a Monza con il vecchio modello degli ultimi modelli del nuovo millennio della Dallara, poi impensabile poter proseguire con il monoplano, con quello che è stata l'evoluzione poi aerodinamica dalla 312 in poi, però ecco insomma questo filo conduttore della storia che sarebbe sicuramente bello, insomma i tifosi dell'Alfa Romeo e i possessori del marchio Alfa, anche un po' per deformazione mia personale e professionale, sono quelli lo zoccolo più duro e forse i più appassionati ma anche i più esigenti da parte del marchio. I più esigenti e allo stesso tempo qui intanto vediamo un'Alfa 33, non dovrei dirlo, ma io ho corso a Imola con un'Alfa 33, gruppo N nel campionato di velocità turismo, ecco e non mi trovavo benissimo con le trazioni anteriori, ho sempre avuto qualche... Ma infatti tu sei un uomo Porsche comunque, cioè nell'animo, nel cuore, nelle marchette anche ogni tanto però insomma sei... Quello no, quello assolutamente no, però vediamo anche una piccola Alfa 33 che ha avuto una sua carriera agonistica importante, ad esempio una persona che tu conosci bene, che attualmente è il direttore di Motorsport Point Con, Franco Nunez ha vinto il titolo tricolore qua al volante. Franco Nunez che era noto più che altro per metterle di traverso le macchine cappottate, soprattutto all'uscita della variante Ascari e poi arrivava in redazione quando ero direttore tutto ammaccato con le costole, e va bene però... La più grande narrazione di Franco che mi è arrivata negli anni è stata quella, cioè che lui se le metteva per cappello le macchine. Sì, debutò Franco Nunez che non ci sta ascoltando perché sennò ci manderebbe subito una querela, a un tempo c'era Carlo Rossi che aveva una scuola e decise Carlo Rossi di invitare un giornalista di autosprint, all'epoca lavoravamo assieme, io e Franco non ci siamo mai persi di vista, e andò Franco Franco che si cappottò con un Alfa Box all'uscita della curva delle acque minerali, nella vecchia limola che era più difficile di questa perché le acque minerali c'era una discesona, una S da prendere in seconda, poi andava in accelerazione verso la seconda, lui si cappottò, debutò benissimo però andava forte, ha vinto anche un titolo in CVT, guarda lì quanto filler che c'è dopo l'uscita della BMW, io credo che la BMW non abbia solamente avuto un problema pneumatico, abbia proprio avuto un problema o al cambio o al motore, Porsche passa, ha superato Porsche, quindi la RS ha infilato la 935, questa è la bellissima 944, o l'Alfa 33 che tiene botta ma è incredibile quello che sta facendo Sardelliti perché è lì al Calcagno o almeno negli scarichi dell'Alpino Renault, è molto bravo e anche Arnaldi che si trova davanti con la propria Alfa Romeo, li vedete tutti i primi, le lotte sono decisamente pulite, non ci sono dei contatti, non esiste ripeto la classifica assoluta, esiste una classifica per gruppi e d'altronde vedete la tipologia di vetture molto molto diversa ed è interessante vedere come quelle che erano delle macchine estremamente competitive negli anni 70 stiano dietro a delle vetture piccole tra virgolette come può essere un Opel GSI o una Alfa 33, questo per spiegare anche come è stata la rivoluzione in corso degli anni. Beh, lo dicevamo a microfoni spenti, ora siamo lontani dal momento in cui quelle saranno le auto storiche ma fra 70 anni avremo delle auto elettriche che saranno la contemporaneità che tornerà indietro, mi rendo conto che sia una bestemmia paragonata a questo tipo di vetture però l'evoluzione tecnica, beh per tanti però insomma hai capito? Sì, quando probabilmente gireranno nelle auto storiche dei vari campionati i primi modelli della Tesla quando tu sarai qui a commentare alla veneranda età di 150 anni ci sarà nel campionato italiano auto storiche Matteo Losa che in coordinamento dalla regia che ne avrà 90 esatto, per la sua Tesla Model S vedete che bello, è bellissima questa sfilata, qui c'è una TWR che sta infilando un'Alfa siamo nella seconda generazione dell'Alfa Romeo GT, vedete il doppio fanale stile GTA M la vettura che Toine Hezeman nel 1970 portò alla vittoria nel campionato europeo turismo una vettura che rispetto alle GTA e rispetto soprattutto alle rivali era leggermente più pesante forse meno prestazionale ma grazie all'affidabilità e grazie anche al gioco di squadra l'Alfa Romeo aveva dei grandissimi piloti in squadra, riuscì a vincere il campionato europeo piloti contro le Ford e contro le BMW che erano particolarmente agguerrite a proposito di Alfa Romeo, la tradizione Alfa nel mondo del turismo è una tradizione direi trentennale perché i campionati europei vinti dalla casa di Arese, quella che allora era la casa di Arese sono stati tantissimi, sia in modo assoluto che nelle classi maggiori sia nelle classi tra virgolette inferiori tipo la classe 1300 dove la GTA Junior che era la piccolina della declinazione GTA si mise a duellare con la Fiat 128P che andava fortissimo ma era estremamente fragile vi ricordo quelle di Trivellato e sia con le bellissime ma particolarmente insidiosa a livello di affidabilità Ford Escort stessa cosa per le Abarth due le Abarth che hanno fatto la storia per questa categoria le 850 TC e le 1000 come questa derivavano, lo vedete, dalla 600 erano gruppo 2, ovvero turismo speciale purtroppo molti proprietari le avevano svendute i giapponesi più furbi sicuramente degli italiani l'hanno fatto in cetta e adesso per trovare una di queste vetture c'è veramente da impegnarsi tantissimo perché in Italia ce ne sono poche l'epopea dell'Abarth è nota l'ingegner Carlo Abarth austriaco con grandissima fantasia iniziò ad elaborare sia le Simca poi passò definitivamente con il gruppo Fiat e iniziò a preparare sia le 500 e a creare una sorta di vettura di produzione differente rispetto alla 500 tradizionale poi le 850, poi le 1000 per arrivare poi ai prototipi i prototipi che sono stati lo stato dell'arte soprattutto nel mondo delle salite i campionati europei della montagna ricordiamoci gli esordi di Arturo Merzari oppure le grandissime vittorie di Johannes Hottner poi dall'Abar, dalla costola dell'Abar è arrivata l'Usella io vado invece a ritroso partendo da quello che ti ho detto di Alfa Romeo perché voglio ricordare anche l'ultimo titolo arrivato per una delle vetture della casa di Arese elaborato e sviluppata da Romeo Ferraris nel 2020 con la vittoria del VTCR Trophy ma perché questo? perché quando mi parli di Abarth uno dei personaggi che fece salire sulle punte Abarth fu proprio Romeo Ferraris quando partì col progetto dell'Abar 1000 poi col Millino quando tu mi parli di motori per i prototipi e quindi insomma una linea che è ripartita sempre da quel punto Abarth il famoso Millino di Romeo Ferraris guidato in Italia tra i prototipi da un pilota bolognese che si chiamava anche Tiziano Serattini ecco un motore che girava già all'epoca a 10.000 era rivoluzionario perché poi i motori che superavano i 10.000 giri sono arrivati negli anni 80 e negli anni 90 siamo a 41 minuti dalla conclusione ma soprattutto Guido ha quasi un minuto e mezzo dall'apertura della finestra per il cambio piloti allora lì sì che cominceremo a vedere anche un po' di azione in pitlane col cambio come dicevi tu di quegli equipaggi che hanno due piloti previsti magari anche un po' il cambio ritmo è una responsabilità Ronconi è già salito in terza posizione a 13 secondi da Sardelliti si è fermata l'Abart ha già sostituito in anticipo però mi sembra l'Abart ha già probabilmente rientrato per una problematica rientra anche la BMW la BMW di Balestri eccola qui anche questa è una versione gruppo 5 il gruppo 5 iniziò la propria carriera la prima gara assoluta del gruppo 5 fu all'autodromo del Mugello fu la prima gara del campionato in cui si scontrarono sia le BMW sia le Porsche e c'erano all'epoca anche le Dallara X19 quindi classifica destinata a modificarsi con il tempo che sta scorrendo fra 35 secondi dovrebbe essere aperta la pit lane continuano anche nelle retrovie a battagliare ma ricordiamoci ci sono tanti raggruppamenti questa è una bellissima guardala l'Alpine A110 è un gruppo 4 vettura che ha fatto la storia dei rally anche della velocità preparata da Terrosi preparatore storico di queste vetture e guidata da un pilota che porta un cognome famoso Chiaramonte Bordonaro ma sai qual è la cosa meravigliosa di questo fine settimana che c'è un'altra A110 nel paddock che è la safety car della Formula Regional esattamente quindi l'evoluzione ha più di 30 anni da un modello all'altro con l'A110 che insomma su A6 Sport TV tra l'altro potrete vedere a partire teoricamente le 14.55 vediamo se avremo poi un po' di ritardi al programma dopo l'incidente della Formula 4 ma non credo intanto sta rallentando problemi per la Porsche 935 quella che partiva in pole position di Ronconi che sta arrancando e con difficoltà sta tentando di raggiungere i box sarebbe una sorpresa perché Golinelli il pilota di Padova era già pronto ai box per sostituire per iniziare una cavalcata stessa cosa si era verificata anche per Cusa l'anno scorso con Golinelli che aveva preso le redini della vettura naturalmente Golinelli è un professionista Ronconi è un gentleman e quella vettura ti voglio dire con il manettino della sovralimentazione aperto e quindi ha oltre due bar di pressione c'erano due bar in paese sviluppa 730 cavalli e non c'è differenziale autobloccante su quella vettura sono rimasto alla questione dei due bar la Kramer CK3 non aveva differenziale autobloccante quindi di fatto si guida c'è un monolite in titanio che è collegato ai due semiassi quindi ha una sale di fatto quasi rigido al posteriore cambio a quattro marce più retromarcia 650 da 650 750 cavalli per la Porsche che speriamo riesca a fermarsi ai boxer che porta i colori della Jagermeister e il nome di Axel Plankenor che tu conoscerai perché da poco cioè dal 2022 è diventato uno degli ingegneri dell'absoluto racing sia nella Michelin statunitense sia in Europa per anni ha fatto l'ingegnere nell'ambito della Porsche Carrera Cup e l'ingegnere anche nelle auto storiche ma soprattutto è stato uno dei grandi protagonisti dell'epoca della 935 Kremer che iniziò con la 935 K sono tutte le pune derivate dalla 930 è arrivato fino alla K5 e con quella vettura Plankenor ottenne parecchi podi fu grande protagonista nel campionato eccolo qui che si è fermato Ronconi sale Golinelli sale Golinelli si sistema vettura difficilissima se ci fossero delle riprese molto ravvicinate farebbe spavento uno la guarda allora meglio evitare infatti Golinelli che conosce questa macchina perché ha corso con la 930 con il 934 con lo nero che abbiamo visto fino all'anno scorso ha detto che bisogna trattarla con i guanti anche perché è una macchina particolarmente potente che ricordiamo è stata guidata sia da Plankenor sia da Rolf Stommelen Plankenor che nel corso della sua carriera è arrivato secondo nel campionato europeo di Formula V che era la Super V che era la formula all'epoca monotipo per quanto riguarda i motori in Germania da cui poi era uscito anche Keke Rosberg e Miko Kovarizzi mi ricordo e anche Axel Plankenor che poi ha corso in Formula 2 nel 78 con una Ralt a motore BMW poi si è specializzato con le vetture a ruote coperte prendendo parte dal 79 fino a circa all'85 alle gare del DRM che era il campionato tedesco un campionato molto importante alle gare del Mondiale Endurance da prima con la 935 che abbiamo visto adesso uscire dai box e successivamente con la Porsche 956 del team Obermeier insieme a Jürgen Lessig e Der Veregu l'avevo visto anche alle man del 1983 questo per dirti che quanto sono anziano no non sei anziano sei storico sono storico sono anche io storico come questa BMW che chiaramente ha dei problemi vedete che i tecnici hanno portato in sicurezza dicono che io sia più vecchio della BMW in effetti è vero così suggerisce però li porti meglio questa è la vettura di Gianni Giudici è interessante perché è una vettura realistica era una vettura della Tamauto che aveva partecipato al campionato italiano rally Gianni Giudici che è uno dei più grandi collezionisti e non solo è stato anche un grandissimo pilota sia di formula ma anche un punto di riferimento della generazione trash bravissimo uomo molto simpatico che non molla non molla assolutamente mai ed è ancora velocissimo oserei dire eroico ma non è eroico si diverte fa bene quando uno si diverte non c'è mai credo eroismo qui si scambiano le posizioni i vari gruppi con Messa davanti a Garzi Sardelliti Landini Trugli Arnaldi Quaresima che resiste bene tra i primissimi con la propria Maserati Raimondi con la Jaguar poi Guerra Lelli Bravetti che è risalito con la Porsche 944 Viewer Crocchini Mischis Chiaromonte che è il pilota dell'Alpire Renault a 110 Bassi Castronovo Bossoli Luca Rangoni che è salito in macchina adesso Denti Alberto Bergamaschi che è un nostro collega per anni è stato l'addetto stampa della Continental con il pallino sia della velocità moderna correva anche nei campionati di Henry Morgan al volante delle Van Bimen di Formula Ford sia delle auto d'epoca corso col maggiorino corre un pochettino dappertutto poi c'è Tobi Carlo Brambilla che ha trovato una Opel identica a quelle che utilizzava nel campionato italiano di turismo poi Frasson Amendola Gine Bressan Benusilio altro nome storico del mondo dell'automobilismo Ottosolini Gulinelli Arvetti Tramonti Giudici Edovarini che è salito in macchina sostituendo Santi De Filippi tra l'altro uno degli specialisti del North Life è riconosciuto come uno dei punti di riferimento delle gare delle LMS chiaro e certo tante 24 ore cioè nel senso bizzarro perché passare dalle auto storiche alle gare al North Life Edovarini è un altro uomo che fa parte di una generazione di persone simpatiche guardate com'è interessante la vettura del Team Tessaro siamo nel pianeta del 128 gruppo 2 128 gruppo 2 che correva nella categoria 1150 di fatti monopolizzava questa classe dove dominava un pilota di Parma che si chiamava Giuliano Battistini c'era anche un altro pilota che si chiamava Caio di Conome c'era il vecchio tra virgolette Boffa che aveva anche corso in Formula 1 ed era uno specialista della Maserati 128 che poi è stata sostituita naturalmente nella stessa classe 1150 dalla Fiat Ritmo eccola qui la A110 gruppo 4 1.6 affidata a Chiaromonte di questa c'era naturalmente anche la declinazione gruppo 3 e la classe 1600 del gruppo 3 era invasa dalle Alpino Renault A110 c'è anche l'Alpino Renault 1300 poi c'è stato anche un aumento di cilindrata attenzione sul mercato delle auto d'epoca dove sono quasi introvabili che c'è anche un Alpine Renault che è realizzata in Spagna e che vale molto meno dell'Alpine Renault originale cioè era sempre un Alpine Renault però non ha la stessa valenza di quella Spagnola è un mercato interessante anche quello della compra vendita delle auto si tantissimo e ci sono vetture come l'Alpine Renault che sono quelle originali quelle belle sono davvero introvabili mentre si trovano queste bellissime 205 anche le 205 hanno fatto la storia di parecchie generazioni di piloti perché tanti ragazzi che poi sono arrivati a professionismo hanno iniziato a gareggiare nel campionato italiano di velocità turismo con le 205 GT c'era anche Marco Antonelli il papà di Timi Antonelli che ha iniziato dove non è stato Antonelli ovunque dalla Peugeot all'Alfa Romeo ha fatto di tutto una delle vetture più anziane e la vediamo proprio davanti a questa Fiat 128 è quell'Alfa che credo sia in assoluto targa monegasca credo sia in assoluto la vettura più anziana presente proprio qui in quel di Imola per questa gara del campionato ACI Storiche che si ripeterà all'autodromo di Perbusa il 20 e il 21 maggio quando saremo là per il campionato italiano Gran Turismo Endurance prima tappa del campionato Gran Turismo Endurance è la seconda tappa invece il campionato dell'Aleon Sport prodotti dove si potranno vedere Guido sempre su ACI Sport TV sempre su ACI Sport TV per cui gli amanti delle auto d'epoca e sappiamo ad esempio che i siciliani hanno una grandissima passione qui ci sono Pianamonte c'è Santi De Filippis i siciliani amano le auto storiche molti sono anche dei collezionisti importanti allora il campionato italiano di auto storiche che è diviso in vari gruppi c'è un primo gruppo che è il periodo cosiddetto F che comprende delle vetture di cilindrata 1.6 poi c'è un periodo G1 che va da 1.6 a 2.000 poi il G2 dove si trova appunto la Fiat 128 e si va avanti G2 G2 H1 ci sono le varie sottoclassi mentre ha preso in largo l'Alpine di Messa che ha ben 20 secondi di vantaggio sulla Opel di Sardelliti ma attenzione perché secondo me adesso lo aspettiamo Gulinelli riuscirà cercherà di la rimonta al volante della propria Porsche 935 K3 classifica commesse Sardelliti Truglia Arnaldi e via via tutti gli altri con questa GTV ecco vedi questa GTV davanti alla Peugeot 200 questa è un gruppo 1 o un gruppo 1.5 cioè se ha una preparazione minima è un gruppo 1.5 ma credo sia proprio un gruppo 1 che correva nella classe gruppo 1 classe 2000 dove poi arrivò l'Opel K del GTE che era più moderna era più maneggevole e soprattutto con Brassetto con Tobi fece la storia di quel gruppo sono veramente affascinato ma quanto è bello poi vederli oggi in azione su una pista completamente cambiata rispetto a quella che era invece ai tempi in cui queste vetture venivano impiegate certo non c'era ancora l'autodromo c'era era però un semistradale un autodromo molto difficile come è difficile quello di odierno ne parlavamo proprio ieri in occasione della gara vinta da Carlotta Fedeli del TCR DSG con Marco Butti il quale mi dava ragione dicendo che Imola forse è in assoluto l'autodromo più difficile che esiste in Italia a Butti voleva secondarti ovviamente perché era qui in cabina di commento con te attenzione vedete eccola qui la 935 con Gulinelli che sta affrontando la curva del tamburello allora vi ricordo le caratteristiche di questa vettura il cambio era a 4 marce perché derivava dalla prima edizione della Porsche Turbo quindi 4 marce 5 con la retromarcia non c'era differenziale autobloccante ma un volito e qui si apre la porta della TCR una vera e propria sportellata sì sì è proprio una sportellata resistenza aerodinamica aumentata all'uscita della variante alta downforce eh sì c'è un downforce però questo è probabilmente no è un side on front force con Gulinelli che sta tentando con grande prudenza di districarsi da questo traffico dove c'è la vettura 301 dovrebbe essere quella di Tobi sì infatti è Tobi Carlo Brambilla che si fa da parte ragazzi questo era un grandissimo pilota tu eri troppo giovane ma probabilmente l'hai visto qualche cara di Tobi che adesso è ritornato in possesso della propria vettura sta facendosi da parte per consentire il passaggio di vetture verrà fermata intanto la Tuscan hai visto per l'apertura della portiera di prima eh sì per sicurezza bandiera nera con il bollo arancione qui ci sono da parte della 105 questa Alfa GTA delle traiettorie un po' strane è stato bravo il pilota della Porsche 944 credo che sia Bravetti guardiamo la 403 sì Bravetti mentre dietro di lui c'è la 105 che ha creato qualche problema in fase di doppiaggio ed è questa bella Alfa GTA eccolo qui Nicola Bravetti specialista un po' come Eldo Varino della 24 Varini della 24 ore del Murburying pilota che ha sempre usato Porsche tantissime nella sua carriera e ha sempre cercato stato ad esempio uno dei primi a pilotare la Cayman per dire sempre cercato macchine differenti dal resto della massa ma poi sai il mondo tra l'altro abbiamo visto Rangoni con la Tecno Dom della famiglia CECCON in pitlane pronti per il cambio piloti adesso si divertirà esatto c'è questa specializzazione da parte dei piloti del Norshleif che è una cosa molto bizzarra perché non è un circuito facile da interpretare e la velocità in sé non è neanche una note fondamentale è proprio una di quelle piste in cui ancora ci vuole coraggio quasi follia e inconscienza per portare al limite le vetture lì e c'è una serie di piloti professionisti in questo tra cui appunto citavi tu alcuni nomi precedentemente intanto li trovano i box Luca Rangoni è salito sulla vettura Nürburgring intanto cosa succede altro ritiro per un'altra BMW è la numero 304 anche questa è un gruppo 5 è quella di Balestri è una 3000 CSL stessa vettura appunto che debuttò nel Mondiale Endurance al Mugello però erano più pesanti erano più lenti delle Porsche attenzione qui il pericolo con l'Alfa che rischiava di essere chiusa alla curva delle acque minerali quindi ritiro per la seconda BMW Silhouette all'epoca il gruppo 5 si chiamava Silhouette venne sdopeato poi il campionato del mondo perché c'era un campionato Silhouette poi un campionato prototipi a cui partecipavano poche case automobilistiche soprattutto l'Alfa Romeo che infatti conquistò gli ultimi titoli mondiali proprio con le 33 TT 12 cilidri quelle sponsorizzate all'epoca dalla Campari ancora soste ai box che proseguono quando mancano 23 minuti alla conclusione di una gara che adesso sta vivendo della ramonta di Gulinelli pensa Gulinelli anche approfittando delle soste ai box per i rifornimenti per il cambio pilota e degli altri è già risalito in dodicesima posizione con la propria Porsche nettamente più veloce gira in 1,58 quasi 15 secondi più veloce del secondo mentre gli altri stanno continuando la pit e il pit in box si chiuderà fra 2 minuti e 40 ma godiamoci le immagini di questo duello tra la Alfa Romeo la numero 105 l'Alfa Romeo GTA e la Porsche di Bravetti la 944 eccola qui la 105 questa è la Porsche di Bravetti è una 944 turbo c'erano due versioni della 944 continuo questo duello molto interessante vedete che è andato a chiudere il pilota dell'Alfa Romeo si ferma l'Alpine di Bordonaro di Chiaramonte la 110 si anche perché qui ormai mancano due minuti alla chiusura della pitlane e quindi devono devono sbrigarsi cambio pilota anche per loro tra Maneschi e Bordonaro uno esce l'altro entra non è agevole correre per 30 minuti con queste vetture che non hanno aiuti elettronici non hanno ABS sono scomode l'Alpine poi era invivibile dentro quasi claustrofobica in una pista difficile come Imola si ferma l'Alfa Romeo che era stata inquadrata in precedenza eccola qui che rallenta velocità imposta per l'ingresso ai box quindi Bravetti va a guadagnare ulteriormente una posizione si trova tredicesimo assoluto per quanto può contare la classifica si tratta di Lelli che era passato in seconda posizione eccolo qui bella questa GTA è una GTA M questa quindi 1970 la vettura di cui vi parlavo quella di Toine Edzema molte sono GT di 1750 modificate in GTA M poi arrivò nella produzione normale la GT 2000 la Mercedes a momenti ha dei problemi il ragazzo che guida la bellissima vettura inglese si è fatto però da parte queste sono le immagini dell'Alpine risalito il nuovo pilota che dovrebbe essere Chiaramonte o Arvetti non sono riuscito a capire questa è un'altra Alfa 2 litri di cilindrata a GT vedi come erano belle con queste prese d'aria mentre Gulinelli affronta i cordoli con la sua Porsche questo è il gruppo 1 la GTV 2000 ecco questa è la versione stradale diciamo della GTA è un gioiello si è un gioiellino di queste se ne trovano sono direi abbastanza difficili le GTA 2006 originali perché molte erano state già all'epoca modificate e non erano delle GTA venivano prese dai preparatori poi diventavano GTA ma la GTA proprio vera è rarissima come rarissima la Giulia Berlina quadrifoglio verde rarissima non se ne trovano ci sono nel museo dell'Alfa tu hai avuto il privilegio di poterla guidare? no di per questioni di famiglia di averle vissute tutte le declinazioni delle Alfa perché mio papà era un appassionato abbiamo sempre avuto quando ero bambino Alfa dalla sprint alla sprint veloce tutte preparate da un preparatore che si chiamava Biasetti che tenne a battesimo in Germania un grande pilota che poi divenne protagonista della storia BMW che si chiamava Huberhane e poi tenne a battesimo tanti motonauti importanti tipo Casanova fecero il record mondiale con gli entrobordo gli entrobordo erano tutti a motori Alfa Romeo la motomatica è spesso però in correlazione col mondo del motore sport certo perché all'epoca anche adesso i motori Alfa Romeo erano dei motori che sono gli stessi motori della GTA alla fine erano i motori della classe entrobordo corsa come ad esempio i motori Lamborghini sono stati dei motori importanti per quanto riguarda l'office insomma c'è tanto e Ferraris è stato un grandissimo tu citavi Romeo Ferraris ha vinto dei campionati mondiali ma pensavo anche al figlio di Gabbiani che è passato dalle course in auto a quelle in moto Gian Maria abbiamo visto Beppe non più tardi di giovedì sera la presentazione di un team guarda caso della Carrera Cup a Piacenza del centro Porsche Piacenza e c'era proprio Beppe Gabbiani che ho presentato ad un Alberto Cerqui grande protagonista di quel campionato che non lo conosceva perché purtroppo molti ragazzi delle giovani generazioni non conoscono la storia dell'automobilismo ed è per questo che negli AC Racing Weekend portiamo il campionato delle autostoriche quando ti dicevo noi ragazzini ieri che ti chiedevano delle vetture delle autostoriche passeggiando perché qui a Dimola sono nel paddock Mutti che ha fatto la telecronica del TCR DSG mi ha chiesto ma tu quanti anni hai quando l'ha saputo mi ha detto beh allora sei della stessa generazione perché qui lo scritto ne ha 174 anni per quello che Matteo Losa inquadra la vettura di Bossoli di Bossoli che è una 44 Turbo portati benissimo comunque se posso dire la 44 Turbo sicuramente Porsche Porsche dicevamo la 44 due declinazioni quella aspirata c'è un dritto di giudici con la Sierra questo era il problema ma sta perdendo anche il tubo di scarico e questa è la Ritmo l'altra dominatrice della classe 1150 poi c'era anche la Ritmo 113 ma un'altra cosa quella Sierra che abbiamo visto dritta aveva un problema e lo ha ancora adesso lo ha sempre avuto macchina ultrapotente perché nelle sue versioni migliori sfiorava i 500 cavalli ti ricordi le vetture gruppo 2 preparate da Eckenberg indimenticabili bellissime le RS Cosworth qui classica TVR testa a coda sovrasterzo di potenza passano gli anni ma la tradizione dell'affrontare la variante alta non cambia la modalità di interpretare quella curva non è cambiata nel corso degli anni no anche perché è una curva che non è interpretabile ed è sicuramente la più difficile è la più lenta ma è anche la più difficile dell'autodromo d'Imola questa è la Mercedes la 190 Evo all'ettoncione protagonista soprattutto nel campionato di TM vettura introvabile era la rivale di fatto della M3 ben più difficile motore 4 cilindri 16 valvole potentissimo oltre 270 cavalli Roland Dash te lo ricorda guidare questa vettura no me lo ricordo guidare questa vettura ma me lo ricordo dalle tue narrazioni Guido perché tu sai che io comunque ti ascolto tipo papà Castoro quando racconti di queste storie del mondo del papà Castoro io non so ha detto qualcosa intanto qui vediamo la vettura di Tobi la Opel Cadet GTE che non vorrei essere io ho iniziato a correre con questa vettura nei rally come navigatore e in questo caso questa vettura le porta meglio di Tobi al Valli Piacentini del 1977 fu un disastro perché tutti i grandi successi però partono da momenti difficili ma infatti la tua grande carriera come navigatore ho iniziato ho finito lì dopo essere stato insultato da chi pilotava giustamente che poi però ha diventato il mio sposo quando correzza allora vuol dire che l'hai comunque colpito ma perché sono simpatico perché al primo controllo hai anche dei difetti ho timbrato con un minuto d'anticipo quindi ci siamo siamo partiti già con un minuto di ritardo nei confronti di tutti gli altri però era per togliere pressione era una macchina comunque cade il GTE tornando alle cose serie è una macchina ottima nei rally ottima in pista molto maneggevole molto istintiva anche questa è una vettura che difficilmente si trova in ottime condizioni proseguono intanto i problemi per la Sierra Cosworth di Giudici che aveva proprio il problema in frenata era una vettura che dopo tre giri i freni andavano in feding ed era molto difficile fermarla poi questa ha un assetto poco pistaiolo perché ricordo un extra moto del campionato italiano rally in che cosa andavano i freni in feding esplicalo a me alla casalinga si riscaldavano quindi perdevano la potenza e alla fine arrivavi con il pedale a fondo corsa soprattutto quando arrivavi dopo la trincea di Vallelunga che all'epoca era la trincea vera con i cimini si arrivava al semaforo praticamente in pieno ecco se ti ritrovavi con il pedale del freno giù non facevi perché tu mi insegni altro che l'abominio del GT3 con l'ABS no all'epoca allora all'epoca anche quando correvo io ABS sequenziale doppia frizione no noi si andava o di cambio normale o di Uland o prima ancora dello Uland c'era il cambio di Colotti che era ad innesti frontali e quindi ti facevi male anche alle mani quando correvi persino in Formula Ford e con la Van Dime in Formula 2000 in certe piste tipo Varano Magione dove dovevi cambiare molto anche il pilota dilettante fingeva quasi di essere a Monte Carlo perché arrivava alla conclusione della corsa con le mani piagate succedeva questo avevo le piaghe ho ancora dei guanti insanguinati quasi come delle reliquie un reliquie certo ero lento ma piagato si può dire facevi piagare insomma si si capisco eccolo qui Gulinelli naturalmente è già salito in terza posizione sta girando nettamente più veloce degli altri uno 55 e tre guarda che pendenza questo sono veramente meraviglioso ma ripeto in questi giorni vedere i ragazzi delle formule anche i giovani del TCR come Butti ma è un caso che Butti dicevani corrono nel TCR i ragazzini delle monoposto 15-16 anni Butti è un uomo però che viene da questo mondo perché è figlio d'arte sa che cos'è la meccanica quindi Butti ha una cultura direi già completa di automobilismo molti ragazzi invece non conoscono dicevo appunto prima a proposito di Beppe Gabbiani che abbiamo dovuto raccontare ad Alberto a Cerchi che questo Beppe Gabbiani aveva corso in Formula 1 era stato un grande protagonista del campionato cerco il suo ritorno nel paddock degli AC Racing Camp per non sapere chi era Beppe Gabbiani anzi gli chiederemo quando lo rivedremo a Misano hai capito chi è Beppe Gabbiani chi è il papà di Gian Maria Gabbiani e infatti ha detto io conosco un Gabbiani Gian Maria ho detto no ma quello è il bello di famiglia è la versione evo è la versione evoluta è il bello di famiglia è un ragazzo di una simpatia ed è anche televisivamente molto bravo abbiamo lavorato tanti anni assieme a Nuvolari e secondo me aveva delle belle potenzialità poi lui continua a fare facciamo il commento tecnico dell'indicar con Marco Cortesi che oggi è più 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 per l'appello poi Gian Maria adesso sta facendo l'enduro è un grande protagonista va moto auto barche è poliedrico è poliedrico è un ragazzo simpaticissimo ma guarda che bello è inutile che dica che Golinelli ha iniziato a correre sulla mia macchina in Formula Italia beh secondo me invece è utile dirlo che macchina era Formula Italia viene in rimuovo la numero 21 e invece adesso guarda proprio per quello corre col numero 149 sì proprio per dimenticare questo suo debutto nell'automobilismo no lui ha fatto il professionista è arrivato a lambire anche il Formula 3000 comunque è stato un grande protagonista dei campionati italiani di Formula 3 adesso direi che in Italia è il massimo specialista di auto storiche al volante della Porsche un ragazzo simpaticissimo che non perde assolutamente la passione per l'automobilismo sta infilando la Porsche di Bravetti che è stato proprio Bravetto e lo ha fatto passare applausetti per Bravetti ecco applausetti per Bravetti scusateci queste divagazioni Buratto Racing questa splendida Kramer K3 derivata dalla Porsche 930 Turbo qui i Turbo sono due la potenza può andare da 650 a 730 cavalli quattro marce non c'è differenziale autobloccante ma ripeto un monolite a cui sono collegati i semiassi qui Golinelli si trova davanti la Sierra Cosworth naturalmente la tre volumi di giudici che si è fatta da parte due categorie classi differenti Turismo la Sierra Cosworth Silhouette Gruppo 5 la Porsche quando manca pochissimo con Golinelli che ha un distacco abbastanza importante rispetto a Messa che teoricamente andrebbe a vincere in assoluto la corsa al volante della sua bella Alpine Renault sei cilindri andiamo a vedere poi come sono alcuni dei grandi protagonisti di di questo prima gara delle auto storiche gara di un'ora allora Messe primo Giovannini secondo Diamo una classifica assoluta ma non una classifica per classi Golinelli Girola Olmi Arnaldi Gerardi Quaresima Raimondi Serio Denti Lelli Bravetti Crocchini Tosolini Guerra Blumax Maneschi Ruberti Morselli Edovarini Giaccon Padre Tramonti Frasson Caprotti Grassellini Giudici Arvetti Lupoli Bressan Bossoli Gotti Tessaro Papa In Bimbo e Benedetti Giro più veloce per Golinelli in 1 55 e 320 alla media di 153 che è un gran bel andare che è un gran bel andare qui a Imola poi fortunati anche Guido per le condizioni meteo perché venerdì quando si stava allestendo il padro del campionato italiano autostorico abbiamo avuto un po' di pioggia arrivato con 9.35 se quella pioggia te lo racconti anche perché devi chiudere di fatto il manettino non avere pressione poi all'epoca la pressione di sovralimentazione non era regolata da tanta elettronica come adesso e quindi adesso abbiamo una progressione all'epoca non avevi niente ai bassi decimi e arrivavano all'improvviso quindi ti scomponeva la vettura e la Porsche era specialista però era una macchina molto equilibrata perché pesa per spostare il baricentio sul basso possibile il cambio è a testa in giù proprio per aumentare il peso al retrotreno e per dare a questa vettura la trazione guarda che ha la posteriore e che il retrotreno che ha molto largo lo vedi è veramente un'opera anche ingegneristica non solo dal punto di vista estetico anzi segue l'estetica quello che è il progetto e il processo di cremer e Porsche i cremer di fatto erano una succursale anche del team ufficiale della Porsche c'erano due grandi squadre che supportavano la Porsche per i clienti privati tra virgolette una era quella dei fratelli cremer e l'altra era quella di Reinhold Yost che poi non a caso è passato a gestire tutta l'avventura dell'Audi nel World Endurance Championship quindi da quei momenti Reinhold Yost tra le altre cose era stato un ottimo pilota aveva corso anche con quelle macchine poi una volta passato dall'altra parte della barricata dopo aver ottenuto grandissimi successi correva anche ti ricordo il campionato interserie dove correvano le vetture Canam europee Yost Ralf Kelleners insomma ha tutto quel giro Kelleners invece che è stato un grande della BMW 6.35 si è da sempre cercato di unire questi due mondi dell'automobilismo e del motorsport tre se pensiamo anche all'Asia che comunque rimane ancora un po' lontana ad oggi ma anche questa unione poi nel corso degli anni prima dell'MP2 che ho detto una prototype adesso Hypercar dell'MDH si è sempre cercato di portare anche da una parte ovviamente l'interesse economico di produzione di due mercati diversi con un'unica però passione che unisce entrambi i continenti non è un caso che tu segui tutti i campionati è passato l'inverno a seguire anche le Asi di Mansi che sta diventando ogni anno sempre più importante invasa dai piloti professionisti europei si c'è questa forzatura quasi se mi permetti da un punto nella creazione di serie pro-AM proprio per dare spazio ai gentlemen che poi sono il cuore pulsante della passione del mondo del motorsport abbiamo visto anche del WEC la GTE che è diventata solo una categoria AM stessa cosa per quanto riguarda il GT3 che prende il posto del GTE nell'Asia Le Mans Series e oggi parte l'European Le Mans Series da Barcellona e c'è una categoria LMP2 che ha sette vetture tra gli equipaggi professionisti e ben 11 invece nella classe pro-AM e poi c'è anche da dire che c'è questo travaso di piloti dall'Europa al Far East e dal Far East all'Europa lo vediamo lo abbiamo già accennato prima con i giovani che sono presenti ad esempio in Formula 4 nel TCR nelle varie categorie e a poco a poco anche questi piloti stanno avvicinandosi al professionismo abbiamo un cinese in Formula 1 come Guany Joe sono tutti nati a livello motoristico in Italia esatto e invece Guido è interessante notare come da tempo c'è chi invece fa la strada inversa penso a Ronny Quintarelli pilota cresciuto nostro carissimo amico cresciuto in Italia sportivamente è l'emblema della Nissan in Giappone è l'emblema di chi ha abbandonato la carriera in Europa per questioni di budget è volato da adolescente anche perché spesso e volentieri non me ne vogliono in Europa di piloti capiscono ben poco si vedeva già quando ha fatto l'europeo di Formula Renault Quintarelli quanto andava forte era stato anche un grande nei kart è stato costretto ma se ci ricordiamo un altro allora c'è tutta una generazione tipo Pirro che sono andati Barilla Danfriis povero Ratzenberger Johansson andarono lo stesso Villeneuve andarono in Giappone perché era un'occasione di guadagno ma ci sono stati dei piloti che hanno ricostruito la loro carriera in Giappone all'epoca pensiamo a Marco Apicella grande protagonista della Formula 3000 partecipante a uno sfortunatissimo Gran Premio d'Italia con la Jordan che divenne il miglior pilota di Formula 3000 giapponese tu arrivavi a Tokyo c'erano i manifesti della Bridgestone la casa che forniva i pneumatici alla Formula 3000 con le immagini di Marco Apicella quindi molti hanno avuto l'occasione nel Far East e nell'Ist asiatico di andare iniziare a guadagnare e proseguire la propria professionalità e il proprio professionismo e a proposito di guadagno e professionalità io Guido ti ringrazio per avermi accolto in cabina con te per le autostoriche io sto lasciando ad una persona professionale competente il microfono che ti accompagnerà poi nella prossima gara a TCR Italy perché al termine delle autostorie che ci sarà invece il ritorno alle contemporaneità del TCR Italy e quindi passa Gulinelli secondo io lascio il microfono a Giulio Rizzo di Enco che fornitore diplomatici proprio della TCR Giulio Rizzo si parlava di Far East Giulio Rizzo e signor coreano mister barbecue tra l'altro oltre a essere collega è anche uomo Ancock Ancock che abbiamo parlato anche ieri sia io e te sia con Marco abbiamo fatto le marchette no abbiamo fatto le marchette però abbiamo spiegato anche come è riuscita Ancock a risolvere il problema di questa fabbrica incendiata e ad assicurare le coperture ai nostri campionati ti ringrazio anche per me ci vediamo prossimamente seguita Antonio Caruccio che fra breve nel primo pomeriggio commenterà le gare di Formula Regional e le gare del campionato italiano sport e prototipo mentre noi continueremo sempre col TCR adesso fra qualche decina di minuti poi con il TCR DSG e infine con l'ultima gara del campionato italiano di Formula 4 mentre sta per scoccare l'ora della conclusione di questa gara del campionato italiano d'autostoriche con Messa che l'ha dominata di fatto dal primo fino all'ultimo giro va a guadagnare la prima posizione non esiste ripeto una classifica assoluta ma esiste una classifica per classi e per gruppi con questa Alpine Renault V6 la famosa A310 che rispetto alla 110 più recente il modello successivo non ha una grandissima tradizione agonistica ma che Messa riesce a fare suonare quasi fosse una vettura da primato assoluto sulle piste italiane in seconda posizione indisturbato dopo una bellissima rimonta c'è il Gulinelli con la sua Porsche 935 K3 Kramer con i colori della Jagermeister pilotata da Axel Planck e Nord e da Rolf Stomern al terzo posto Giovannini Poiolmi Girola Arnaldi Gerardi Quaresima Denti Raimonti Serio Bravetti con la 944 Porsche Lelli Tosolini Crocchini Maneschi Blumax Guerra Morselli Ruperti Varini Tramonti Giacon Frasson Caprotti Grassellini Bossoli Giudici con la Sierra Cosvo Larventi Lupo Rigotti Tessaro Papa Bressan in bimbo e Benedetti giro più veloce per Gulinelli 155 320 alla media di 153 virgola 200 km all'ora adesso è il giro finale la vittoria per Messia che ha dominato dal primo all'ultimo giro fa sì con la testa lampeggia gioisce applaudito dai propri tecnici va a vincere questa gara interessante che ci ha messo a confronto con un automobilismo differente da quello a cui siamo abituati a vedere è differente rispetto ai commenti che facciamo in genere seconda posizione dopo una grande rimonta ma con una vettura notevolmente più potente ma anche difficilissima da guidare Gulinelli con questa bellissima Porsche 935 terzi a pauso per Giovannini mentre guardiamo quello che è successo all'Alfa 33 che è andata fortissimo in questa in questa corsa era tra i primissimi nelle fasi iniziali questa è l'Alpine A110 di Chiaramonte la 110 1.6 gruppo 4 inseguita da un Alfa GTA M e via via da tutti gli altri si conclude così questa corsa spero di avere insieme ad Antonio Caruccio reso vivo il ricordo di molte vetture che fanno parte dell'immaginario collettivo e fanno parte anche del passato di tanti di noi ecco messa intanto c'è Giulio Rizzo che ha già il microfono con lui commenteremo il TCR Encoq ha una Encoq ha una linea per auto storiche per auto d'epoca ci state pensando nel farista accade questo innanzitutto Guido buongiorno a te buongiorno ai nostri spettatori grazie di questa opportunità di commento spero di non tediarvi soprattutto da delle premesse del mio predecessore comunque eccoci qua rispondendo alla tua domanda abbiamo una vasta gamma di prodotti racing qui parliamo essenzialmente di 15, 16 e 17 pollici alcuni piloti già le usano come la Maserati di Quaresima esatto già da diversi anni va fortissimo è arrivato ottavo assoluto anche giudici spesso le usate sulle sue Alfa Romeo quindi sì abbiamo una vasta gamma non le può usare la Porsche perché ha gli 8 pollici davanti stavo per dire la stessa cosa ad eccezione delle Porsche hai studiato hanno 8 pollici davanti che ormai è una misura che non fa più nessuno esatto purtroppo è così credo anche la Dallara X19 abbia qualche problema oppure avete le misure no per la Dallara X19 ancora ancora sì ma le misure più critiche sono appunto le Porsche sia per questioni di canale della larghezza del canale in rapporto al dietro ecco la confermata la classifica bravissimi tutti quanti dicevamo con Antonio che è correre per 60 minuti anche se c'è stato il cambio pilota ma bastano 30 minuti in queste condizioni perché oggi c'è molto caldo su una pista come Imola senza ABS senza aiuti elettronici cambiare ogni volta cambiare ogni volta beh non è facile e alcuni piloti poi non hanno 20 anni quindi anche fisicamente come fanno non lo so assolutamente però anche un'occasione per vedere delle splendide macchine alcune sono ovviamente replica ma altre hanno un valore storico del tutto importante abbiamo visto l'Alfa 1009 cioè ne abbiamo visto come dicevi comunque è una competizione diversa da quella a cui siamo di norma abituati a vedere però tanti gruppi tanti periodi storici e tante macchine che hanno fatto la storia dell'automobilismo non solo nazionale adesso chiedo alla regia un'informazione ecco qui l'arrivo di Riccardo Messa che adesso stanchissimo perché ha guidato per 60 minuti mi pare di aver visto il pilota della TVR eccolo là guarda guarda sta piangendo dalla gioia per cui deve essere una bella sorpresa anche per lui vediamo se è fresco e riposato non solo vincere il gruppo la classe ma anche la però il casco è in tema perché già guardiamo gli highlights della gara a partenza negativa da parte del pilota della 935 ci va a cauto c'è subito un primo ritiro sparisce una delle BMW silhouette gruppo 5 quella bianca che stiamo intravedendo dietro la TVR dopo due giri dovrà ritirarsi per un problema meccanico probabile rottura del motore perché perderà olio entrerà in pista la CFT Car vedete che Messa inizialmente è insidiato dalla piccolissima Opel GSI che è chiaramente una vettura molto più recente di tanti altri e quindi è più scattante ecco qui la rottura del motore ed è bravissimo quasi un grippaggio avete visto che ha bloccato addirittura una ruota ed è costretto a fermarsi si riparte Messa prende il largo e poi vivremo della bella rimonta della Porsche 935 soprattutto quando dopo le soste ibox obbligatorie salirà Gulinelli Messa prosegue a danzare sui cordoli della variante alta questo è il momento delle soste ibox si ferma anche l'Opel Cadet GTE dove salirà Tobi ovvero Carlo Brambilla bellissime le immagini di questa GTA M in seguita dalla Porsche 944 di Brevetti questa è la Sierra Cosmo ex rally Tamauto di Gianni Giudici questo è Gulinelli che inizia una rimonta che gli assicurerà anche il giro più veloce della gara 1.55 e 200 km all'ora arrivo di Messa e su queste immagini adesso un attimo di attesa poi vi do appuntamento assieme a Giulio Rizzo per gara 2 del TCR Italia Edizioni 2023 da Guido Schittone a presto arrivederci a presto